Siamo nel 1939 alla stazione di Santa Maria Novella di Firenze. Il treno è fermo, sta per ripartire. È novembre, fa freddo. Luciano Radici è seduto nel suo scompartimento vicino al grande finestrone. A un certo punto apre la porta un tizio con il cappotto e il cappello grigio e comincia a osservare i Radici sorridendo. I Radici lo guarda un attimo e riconosce in lui il suo migliore amico, però scomparso da tanti anni. Come può essere lui? Ci assomiglia, ma anzi è proprio lui! Il tizio gli fa così con la testa come dire seguimi e Radici lascia il suo posto e comincia a inseguirlo per tutto il treno, solo che non lo raggiunge mai. Il cappello è sempre davanti, questo tizio passa in mezzo alle persone, il treno è stracolmo, vagone dopo vagone, arriva fino alla fine del treno senza mai raggiungerlo e poi questo tizio scompare. Tornando indietro comincia a cercarlo ovunque un'altra volta, dentro le toilette, nei scompartimenti, eppure era lui, sono convinto che era lui, non mi posso essere sbagliato e finalmente arriva, torna al suo scompartimento. Arrivando vede che c'è la polizia, dei curiosi che guarda dentro il suo compartimento, quindi dice, oimè, che cosa è successo? Quindi si affretta, si affaccia e sbianca, perché mentre lui era in seguire questo suo amico, un vagone merci carico di tronchi stava transitando per la stazione e un grande tronco si era sganciato dal vagone ed era andato a sbattere, frantumando questo grande ventro e sbattendo violentemente esattamente dove il radici era poc'anzi seduto. Quindi questa era una presenza positiva. Una storia come tante di presenze positive, coincidenze misteriose che accadono ogni giorno a gente comune, fatti realmente accaduti, nel mio nuovo libro Presenze positive, edito Sperling Kupfer.